Amici di Cusano Italia TV, buonasera benvenuti a questa nuova puntata di Crimini e Criminologia con la regia di Daniele Ricciuto andiamo subito a scoprire quelli che saranno gli argomenti sotto la lente di ingrandimento in questa puntata di Crimini e Criminologia cominciamo a vedere il titolo che riguarda il primo argomento tra poco vado a presentare i nostri ospiti Ciccio Ettore il mistero dei fratellini di Gravina torniamo a parlarne, ad approfondire alla luce di un nuovo bellissimo libro che è uscito proprio in questi giorni e poi a seguire un'altra puntata della stagione di Crimini nei Cieli oggi vi parleremo del killer silenzioso non sveliamo nulla quindi restate sintonizzati per scoprire il killer silenzioso dei cieli con il dottor Antonio Bordoni, esperto sicurezza volo e poi torna anche la chiave di volta punteremo i riflettori sulla troce fine di Samana Bass in attesa ovviamente degli ultimi risultati esami istologici e del DNA ma sembra che purtroppo non ci siano dubbi quello il corpo di Samana Bass quello ritrovato nelle campagne di Reggio Emilia un altro appuntamento che torna invece in questa puntata di Crimine e Criminologia è quello con la Galleria degli Orrori con il professor Marino D'Amore parleremo dell'enigma del macellaio di Mons un serial killer che ha ucciso sei donne facendole poi a pezzi ma non è stato mai rintracciato, identificato, individuato quindi un serial killer che resta senza nome come Jack lo squartatore e ovviamente come di consueto ogni puntata di Crimine e Criminologia si chiuderà con quello che è l'appuntamento con l'osservatorio sui crimini di guerra con la nostra corrispondente dall'Ucraina Irina Guley parleremo dei crimini di guerra alla luce della guerra Russia-Ucraina ma cominciamo proprio con il primo argomento che andiamo ad approfondire abbiamo già visto il titolo parliamo del mistero dei fratellini di Gravina Ciccio Ettore che un po' di anni fa, 14 anni fa hanno commosso tutta Italia e non solo ne parliamo perché come dicevo prima è uscito un bellissimo libro proprio in questi giorni e uno degli autori è qui in studio e lo ritrovo con grande piacere Mauro Valentini buonasera, bentornato buonasera Fabio e grazie per l'invito lo vedete spesso ultimamente anche a Prisma il giovedì sera un altro grande appuntamento dell'ampio Enrico Valinsesto della televisione dell'Università Nicolò Cusano del Cusano Media Group l'altro autore invece autorevole che ospitiamo per la prima volta in questa trasmissione e con grande piacere il generale Luciano Garofano buonasera e benvenuto grazie dell'invito, buonasera e grazie a lei non ha bisogno di presentazioni ma ricordo biologo ex comandante dei RIS e dei Carabinieri possiamo vedere allora anche quella che è la copertina il libro di cui parleremo ma dal quale prendiamo spunto proprio per approfondire questo che ancora oggi dopo tanti anni rimane comunque un giallo perché lo stesso titolo lo dice Ciccio Ettore il mistero di Gravina Luciano Garofano Mauro Valentini gli autori cominciò proprio dal generale Luciano Garofano che peraltro è stato all'epoca del ritrovamento dei corpi dei due fratellini consulente tecnico della famiglia credo ancora oggi è comunque legato alla famiglia dei fratellini Pappalardi come nasce l'idea di arrivare a scrivere un libro inchiesta Armando Editore ricordo la casa editrice su questo giallo generale Sì, allora io sono subentrato recentemente diciamo quando Filippo Pappalardi papà di Ciccio Ettore tramite il suo avvocato di fiducia l'avvocato currato mi ha chiesto di occuparmene proprio per stabilire una verità che purtroppo ancora oggi ha bisogno di essere individuata e insieme al dottor Marcello Garofano mio figlio è psicologo e al brigadiere Terry Sanson che faceva servizio a Udine siamo stati nominati consulenti di parte abbiamo fatto un'indagine con una relazione che invitava la procura della Repubblica di Bari a riaprire il caso ma purtroppo ciò che noi abbiamo proposto non è stato ritenuto idoneo per riaprire le indagini e allora Mauro Valentini ci conosciamo da tanti anni lui è un bravissimo giornalista investigativo quasi fisiologicamente ci siamo trovati sulla necessità di scrivere questo libro per me come ulteriore tentativo spero che davvero lo sia di dare a Filippo Pappalardi quella verità che in realtà non è mai emersa perché è vero che Ciccio Ettore sono stati trovati privi di vita seguito della caduta fortunata per lui di un amichetto che allora condivideva con loro i giochi quel palazzo che poi vedremo ma non si è mai capito effettivamente cosa è successo perché sono caduti per quali azioni per quale tipo di gioco o di sfida che stessero facendo e soprattutto chi ha condiviso con loro le ultime ore della loro vita e allora questo libro è un libro di denuncia è un'inchiesta naturalmente della quale Mauro parlerà è un'inchiesta che prende le mosse anche dalla città di Gravina da tutto il tessuto cittadino per poi affondare appunto in questa vicenda ancora misteriosa per la quale noi insomma confidiamo su due obiettivi devo dire non soltanto quello della procura ma anche quello di un rigurgito di coscienza da parte di coloro che sanno di aver condiviso con Ciccio Ettore quella serata disgraziata e siccome non rischiano niente perché ormai sono passati tanti anni e quindi qualsiasi reato è prescritto e per quanto riguarda gli amici erano minorenni e non sono perseguibili magari questo potrebbe ridare quella serenità che Filippo Pappalardi non ha mai poi voglio ricordare sono trascorsi 14 anni lo abbiamo detto dal ritrovamento dei corpi senza vita di Francesco e Salvatore Pappalardi due fratellini di Gravina in Puglia scomparsi il 5 giugno del 2006 ritrovati solo nel febbraio del 2008 per puro caso perché il piccolo Michele cadde accidentalmente in una cisterna dentro un casolare abbandonato mentre era intento a giocare con gli amici un incidente che permise ai suoi soccorritori di scoprire in quello stesso luogo i resti dei piccoli fratellini scomparsi anni prima e proprio come veniva evidenziato dallo stesso generale Garofano il papà poi dei piccoli ha avuto una vera e propria via crucis a livello di giustizia è stato un grave errore giudiziario è stato risarcito poi magari ne parleremo anche se secondo quelle che sono le cifre che ho letto insomma mi sembra un risarcimento anche abbastanza risibile e invece con Mauro Valentini volevo entrare più nel merito proprio della storia vera e propria e soprattutto chiedere anche a Mauro Valentini perché l'ultima volta che abbiamo parlato di una sua opera l'abbiamo anche come copertina era un romanzo noir no? Cesare ecco peraltro altro libro bellissimo di Mauro dopo lo chiamavano Tyson Cesare come quando fuori piove anche questo Armando editore romanzo dopo il libro su Marco Vannini Mauro Valentini aveva detto basta adesso mi do al romanzo ai romanzi noir è tornato a scrivere un libro di inchiesta come mai merito del generale Garofano che ti ha convinto a parte che Luciano è bastato 10 secondi per convincervi ma non è questo il discorso è che io avevo detto in un'intervista che non sono più riuscito a recuperare ma è vero sembra quasi un destino e io non avevo ancora mai parlato con Luciano di questa vicenda avevo detto che c'era solo un caso che mi avrebbe riportato in campo e questo caso era la storia di Filippo Pappalardi perché io ho veramente voluto fortemente l'incontro con Filippo perché non volevo e non volevamo insieme raccontare solo l'episodio da un punto di vista come dire scientifico oppure giornalistico d'inchiesta ma volevamo raccontare con chi l'aveva vissuta sulla propria pelle questa doppia questo doppio soppruso uno quello di perdere due figli il secondo quello di essere additato come il mostro di Gravina ecco la possibilità di poter raccontare questa storia ripeto mi ha convinto che forse non è ancora finito il mio tempo intorno alla cronaca e probabilmente non finirà perché ritornare a raccontare questi episodi e soprattutto raccontare quello che succede sulla pelle di chi li subisce è un esercizio che va anche al di là dell'aspetto narrativo per essere quasi una sorta di regalo o comunque di risarcimento per chi ha subito come Filippo Pappalardi la doppia onta che abbiamo appena raccontato insomma Luciano io non sapevo in effetti che lui fosse il consulente quando è iniziata questo iter abbiamo atteso sperando in una ipotesi positiva invece questa ipotesi positiva poi non gli è stata data dalla procura e allora abbiamo deciso di lanciare questo grido d'allarme questo sasso nello stagno per cercare come ha detto Luciano di recuperare la doppia veste la prima di fare almeno di portare un servizio alla procura perché si possa in qualche modo riaprire questo caso ma seconda cosa cercare di chiamare le coscienze di chi e siamo certi che sono tanti purtroppo sanno e sapevano di quello che era accaduto e hanno taciuto hanno taciuto anche di questo che è incredibile anche quando hanno visto scattare le manette a un innocente come Filippo Pappalardi torniamo dal generale Luciano Garofano abbiamo iniziato a vedere qualche immagine per far capire anche quello che era quello che è ancora lo scenario ovviamente di Gravina in Puglia dicevo prima ha lavorato sul caso come consulente tecnico subito dopo la macra bara scoperta ha effettuato sopralluoghi all'interno dell'edificio fatiscente ribattezzato dagli abitanti del posto come la casa delle cento stanze generale possiamo vedere qualche immagine possibile generale che nessuno abbia mai queste sono sempre immagini che riguardano Gravina in questo caso in Nevata ecco queste sono immagini che già fanno capire possibile che a nessuno sia venuto in mente di andare a controllare in quel posto dove i bambini erano soliti andare a giocare il problema che non è che non è venuto in mente quello che sto per dire è molto grave non ci sono voluti andare ecco sapevano sapevano perfettamente che lì comunque valeva la pena di cercare perché anche in funzione delle testimonianze che avevano raccolto grazie ad alcuni funzionari di polizia che comunque conoscevano bene il territorio sapevano che quello era uno dei luoghi dove effettivamente poteva essere successo quello che poi drammaticamente è stato scoperto qualche mese dopo e questo è un'indattine che purtroppo ancora una volta devo dire ci segnala come quell'effetto tunnel cioè quel pregiudizio che talvolta paralizza la logica l'intelligenza l'esperienza degli investigatori fa sì che tutto quello che invece andrebbe esplorato soprattutto nelle prime fasi di unitagine venga accantonato in quanto ci si innamora di una tesi e purtroppo l'innamoramento della tesi era quello che diceva Mauro è stato quasi subito Filippo Pappalarti perché su di lui si sono concentrati dei sospetti che non avevano assolutamente se non aspetti davvero risibili quei criteri per valutarli come colui che viene attenzione viene intagato per sequestro di persona omicidio ed occultamento di cadaveri che è qualche cosa di gravissimo quindi questo è ciò che noi vorremmo stimolare io credo sempre poi nella coscienza delle persone soprattutto quando poi si rischia meno adesso oggi non rischia più nessuno vorrei che qualcuno incontrasse Filippo e nelle modi che vogliono scegliendo quello che desiderano però fargli capire quello che è successo quello per il quale ancora si strugge quell'uomo e immaginiamo abbiamo anche qui naturalmente ringrazio Mauro Valentini avermi portato questo libro di cui stiamo parlando e che come ha detto il generale Garofano vuole comunque riportare anche al centro dell'attenzione questo caso e posso aggiungere noi abbiamo molti canali per attingere poi a quelle che sono le immagini d'archivio che riguardano la vicenda e purtroppo a parte queste foto foto che stiamo vedendo grazie anche alla concessione dello stesso Mauro Valentini che ce le ha fornite immagini video veri e propri di questa storia di questa storia si trova veramente poco ma parlo di ANSA parlo di agenzia vista parlo di Reuters quindi non parlo di piccole agenzie queste sono immagini che noi abbiamo invece deciso di dimostrare per far capire un po' quello che è lo scenario del luogo dove è avvenuto il dramma come mai questa 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 sorta no come se si fosse deciso di non parlare più di questa vicenda che torna alla luce grazie a voi Mauro ma diciamo che poi se ne sono occupati altri altri importanti programmi per quanto riguarda l'approfondimento della cronaca insomma e anzi una delle accuse molto forti che era stata fatta dalla procura e dalla squadra mobile era quella come se addirittura Filippo utilizzasse dei canali televisivi come è stato detto trasmissioni Rai anche soprattutto che sono scritte nero su bianco quasi a costruire una accusa riferita a Filippo che in realtà come dice poi nel nostro libro lui era semplicemente chiamato a rispondere alla stampa quello che lui ha sentito è stato proprio invece un accerchiamento da un punto di vista della sua del suo comportamento sono andati ad analizzare non a cercare come ha detto Luciano in campo dentro a quel centro storico dove se si muove una foglia lo sanno tutti e dove certamente c'erano delle persone che potevano sapere abbiamo anche trovato e ci sono agli atti delle testimonianze che dicono di aver visto questi ragazzini in prossimità della loro ora del minuto drammatico della loro caduta lì addirittura davanti a una via molto nota con dei personaggi che sono stati nominati che sono i ragazzini che sono i loro compagni ma vada bene anche con degli adulti che li hanno visti e che all'inizio hanno detto di averli visti che poi in qualche modo hanno ritrattato c'è una sorta di costruzione di una verità precostituita che allontana da un certo punto in poi come se ci fosse un accordo tra chi era stato interrogato e che allontanava da quella casa delle cento stanze che tu hai nominato quell'allontanamento che poi cade miseramente insieme al povero Michele che è l'altro ragazzino che cade un anno e mezzo dopo e che però fa sì che in quella maniera si possano ritrovare i corpi da quel momento in poi tutti cominciano a ricordare di esserci andati nella casa delle cento stanze viva Dio però senza che questo poi porti a una a una verità a quella verità che come ha detto già anche Luciano Garofano è una componente essenziale per stabilire almeno una pace interiore da parte di Filippo che lo ripeto è stato un uomo messo in croce per delle degli indizi che poi sono caduti ma sono caduti anche cioè abbiamo trovato veramente sensazionale il fatto che ci si possa essere aggrappati per arrestarlo e per dargli un'accusa quella di duplice omicidio occultamento di cadavere sequestro di persona che era lo portava l'avrebbe portato direttamente all'ergastolo davanti a degli indizi che non esistono e davanti a delle mancanze che Filippo grida guarda non ci dice non registra non scrive ma ce lo grida dentro a questo libro che sono dovute per esempio al fatto che lui lamenta che non ci sono stati dei sequestri delle immagini delle telecamere che avrebbero stabilito i suoi movimenti e tante altre cose fino a arrivare a una testimonianza posticcia di un ragazzino che tre mesi e mezzo dopo una testimonianza su cui io ho veramente cercato insieme a Luciano di porre quanto più possibile stigmatizzandola questa testimonianza una testimonianza di un ragazzino che agosto si ricorda che a giugno Filippo era stato quel giorno aveva preso i ragazzini in piazza davanti a tutti senza che nessuno comunque lo avesse visto e li avesse portati via quella era la pistola fumante secondo la procura per portarlo in galera quella testimonianza che cadrà il giorno dopo il ritrovamento dei corpi quando questo stesso ragazzino andrà a smentire se stesso praticamente liberando Filippo da tutte le accuse che cosa è successo in quel momento è una storia veramente a metà tra l'orrore e il senso di omertà e quel silenzio e quella mancanza di fiducia nei confronti delle autorità investigative che ha portato a quello che abbiamo visto voglio ricordare la casa delle cento stanze è un enorme casolare in mattoni nel centro storico di Gravina in Puglia nell'ottocento era la dimora a Grest della famiglia Pellicciari aristocratici di Modena poi scesi nel sud Lucano dove scelsero come residenza la cittadina a 40 chilometri da Bari ora è un fabbricato che versa in condizioni di semiabbandono dove si respira l'odore di muffa delle vecchie case e lì in via della consolazione tra segrete pozzi e scalinate che si racconta essere infestati dagli spiriti addirittura spesso i ragazzini si divertono a nascondersi ecco generale Garofano se non fosse stato ritrovato il povero Michelino poi fortunatamente per lui le cose andarono bene il povero Pappalardi in questo caso è il caso di dirlo Filippo sarebbe rimasto in carcere insomma quella scoperta fu determinante di fatto assolutamente sì Michele è stato fortunato perché contrariamente a Ciccio Ettore non è caduto fino alla cisterna e si è incastrato buon per lui tanto da poter essere poi recuperato ma sicuramente noi lo troveremmo ancora in galera Filippo Pappalardi perché purtroppo tutti gli elementi che erano raccolti erano per gli investigatori talmente convincenti tanto da anche esibire delle riserve da parte dell'autorità giudiziaria di allora in particolar modo dal GIP il dottor De Benedictis che addirittura dopo la scoperta dei corpi concesse a Filippo Pappalardi gli arresti domiciliari proprio perché non si fidava e c'era ancora in piedi il discorso di comunque un atteggiamento educativo assolutamente non confacente tanto che nel corso poi della consulenza che fece uno dei più bravi medici negali italiani il professor Francesco Introna furono fatti degli accertamenti per capire se il cittore potessero avere delle lesioni pregresse cioè non riconducibili alla caduta perché la convinzione che comunque Filippo centrasse in qualche modo era fortissima e per fortuna poi insomma sono stati fatti non solo questi accertamenti medico-legali ma anche accertamenti da parte della polizia scientifica che hanno sgombrato il campo peccato che e questo è ciò che noi vorremmo con questo libro peccato che insomma ci rivolgiamo al 2006 le tecniche erano quelle che erano ci sono dei reperti che ancora potrebbero essere valorizzati tra i tanti uno dei palloncini con i quali stavano giocando il cittore che potrebbe essere anche il motivo per il quale abbiamo fatto una sfida siano scappati agli altri amici e così via si stavano tirando palloncini pieni d'acqua no? c'è una bomboletta che abbiamo trovato noi in un sopralluogo che tra l'altro rientra poi nella ricostruzione un po' dei fatti di allora e ci sono tante impronte papillari che pure evidenziate non sono state mai confrontate con i protagonisti chi sono i protagonisti? non facciamo nomi ma sono tutti quei ragazzini di allora oggi adulti che poi si è appurato che già prima frequentavano quel palazzo e quindi c'è una situazione allora come oggi assolutamente pronta ad essere riesplorata noi ci speriamo ecco poi ci torniamo su questi aspetti interessanti per provare a riaprire un po' la vicenda volevi aggiungere qualcosa a Mauro Valentini e chiudiamo il primo capitolo volevo aggiungere che Michele cade in una circostanza che probabilmente è la stessa per cui è caduto sono caduti Ciccio e Ettore tant'è che l'altro amichetto tale Francesco prima tenta addirittura di provare a scendere per aiutarlo poi si rende conto e per fortuna che è troppo pericoloso esce fuori ma di tutto quel gruppo di amici che sta giocando con Michele solo uno questo Francesco chiamerà i soccorsi gli altri scapperanno dandoci proprio una sorta di ripetizione di rivisto rispetto a quello che potrebbe essere accaduto nel caso di Ciccio e Ettore cioè questo ritorno e questa ricomposizione della stessa situazione solo che qui stavolta abbiamo avuto non solo una caduta meno repentina ricordiamo però ancora non l'abbiamo detto che Ciccio e Ettore si sarebbero potuti salvare perché sono morti ore e ore dopo quella caduta per cui bastava uno di questi ragazzini che avesse chiamato i soccorsi e noi adesso stiamo parlando di due ragazzi che hanno avuto un grave infortunio ma che sarebbero stati sicuramente vivi per cui è un dolore quello che noi abbiamo riaffrontato insieme al papà di Filippo e l'abbiamo cercato di raccontare e il bisogno di verità non è un bisogno di verità come dire semplicemente simbolico è proprio per dare pace a un uomo che ha detto e noi abbiamo riportato fedelmente non passa giorno senza che pensa a quello che è stata la fine di questi due suoi amati figli voglio ricordare i telespettatori mi segnalano dalla regia che ci sono problemi nel ricevere i vostri messaggi Whatsapp il numero lo possiamo comunque ricordare perché mi dicono che possiamo eventualmente ricevere i vostri messaggi via SMS ora non so se è un problema momentaneo di Whatsapp o cos'altro quindi il numero che vedete in sovraimpressione potete utilizzarlo con un SMS al 334 92 29 505 per dire la vostra questa incredibile storia porre soprattutto domande al generale Luciano Garofano o a Mauro Valentini chiudiamo qui il primo capitolo di crimini e criminologia di oggi diamo una linea alla regia torniamo tra pochissimo per il secondo capitolo e continueremo a parlare del mistero di Gravina secondo capitolo di crimini e criminologia ma continuiamo a parlare del mistero dei fratellini di Gravina Ciccio Ettore i fratellini Pappalardi grazie al libro che questo è il nostro titolo ricordo anche il libro di Luciano Garofano e Mauro Valentini Ciccio Ettore il mistero di Gravina è uscito ma è uscito Mauro Valentini qui ancora ovviamente in studio pochissimi giorni fa no Mauro? Sì siamo praticamente in distribuzione dal domani che è lunedì praticamente siamo usciti in anticipo per portare questo libro alla fiera del libro di Roma più libri più liberi alla nuvola dell'Eur e quindi è stato lì è finita adesso la fiera e da domani lo troveremo in tutte le librerie collegato sempre il generale Luciano Garofano ma si aggiunge a questo nostro spazio dedicato al mistero di Gravina una nostra compagna di viaggio la dottoressa Barbara Fabroni psicoterapeuta e giornalista buonasera dottoressa bentornata buonasera Fabio saluta i suoi ospiti prima di tornare dal generale Garofano le chiedo che idea si è fatta di tutta questa vicenda soprattutto dopo aver immagino ascoltato e visto il primo capitolo di crimine e criminologia sentendo sia il generale che il collega Mauro Valentini beh senza dubbio una vicenda molto triste una vicenda che coinvolge comunque emotivamente che porta a farsi tantissime domande a chiedersi davvero quale strana situazione abbia condotto poi questi due bambini questi due fratellini a una fine così veramente diciamo impensabile soprattutto vedere un padre che ancora oggi ha bisogno di trovare quella verità e di avere quella risposta e credo che sia necessario e credo che questo libro sia assolutamente importante soprattutto perché è un tentativo come dicevano appunto anche i suoi ospiti per poter smuovere le coscienze anche perché vede un padre i genitori hanno bisogno di conoscere comunque la verità sia non altro per dar pace a quello quel turbine a quello tsunami che si muove all'interno di loro soprattutto un padre ferito su due fronti perché non soltanto ha perso due figli in una situazione tragica ma anche ha vissuto il carcere e soprattutto ha vissuto l'agogno di tutto quello che è stata anche diciamo così la trappola dei media no? in cui hanno espresso giudizi ed è stato messo quasi crocifisso quest'uomo tant'è che comunque lui stesso racconta che ha preso in carcere il ritrovamento dei due corpi e lui si è reso conto che erano i suoi figli proprio dal racconto degli abiti no? che veniva fatto dai media quindi pensi la drammaticità per cui credo che sia assolutamente necessario che quest'uomo abbia comunque tra virgolette il soddisfacimento di questo suo bisogno che porta all'interno di sé generale Garofano lei da consulente tecnico ha avuto modo di vedere proprio il posto dove sono caduti i due piccoli questa casa delle cento stanze però soprattutto la cisterna che ricordo ha un margino particolarmente drammatico di quei giorni drammatico perché poi è stato inevitabile che io la unissi alla descrizione così dettagliata e cruda che ne fece il professore introna nel ritrovamento di questi due splendidi bambini e immedesimarmi in quel momento in quella cisterna e pensare che per uno due giorni hanno aspettato che qualcuno quei loro amici che hanno traditi non c'è niente da fare in qualche modo chiamassero i soccorsi per poterli aiutare anche perché uno dei due era ferito profondamente ferito e quindi immagino il dolore la paura il terrore che hanno vissuto all'interno spegnendosi piano piano io i casi in 45 anni ne ho visti tanti però credo che aspettare la morte in quelle condizioni di disperazione di abbandono ripeto di tradimento credo che sia la cosa peggiore senza il papà senza la mamma senza nessuno soli al buio al freddo insomma è stato è stato veramente ritornare lì però era necessario farlo anche perché poi abbiamo trovato qualcosa importante e poi comunque ci dovevamo rendere conto il sopralluogo sulla scena di un crimine questo non è un crimine chiamiamolo un evento anche se è un evento disgraziato comunque c'è certamente l'omertà e la mancanza di aiuto di condivisione che gli amici non hanno dimostrato è sempre importante perché poi riesci a ricollegare tutte quelle testimonianze che io ho studiato già in allora poi l'abbiamo rivista con Mauro Valentini per poi scrivere un documento che ci consentisse di riproporre un'apertura perché guardi al di là degli aspetti scientifici ci sono dei contributi dichiarativi che già allora mostravano delle contraddizioni quindi è grave che non siano stati rivisitati perché il primo tentativo è stato fatto nel 2014 poi l'abbiamo fatto due anni fa e io siccome sono abbastanza determinato ci spero ancora come dicevo prima restiamo su questo punto perché prima ci ha parlato di alcune reputazioni che sono state fatte da voi soprattutto una bomboletta spray ha parlato una bomboletta lei ha detto una bomboletta spray usata per le scritte che cosa avete trovato sì abbiamo trovato questa bomboletta che indubbiamente può legarla oggi rispetto a ieri a chi l'ha maneggiata e quindi poter dimostrare qual era un legame da questo punto di vista obiettivo che univa Ciccio Ettore alle persone che ormai noi sappiamo condividessero con loro questi giochi l'altro aspetto è tutto quello che come dicevo è stato fatto analizzato virtualmente dalla polizia scientifica però non si è voluto ampliare i confronti sempre con le stesse persone cioè si è voluto puntare ad escludere Filippo non cercando di capire se tutti gli oggetti compresa la bomboletta il palloncino potessero essere stati toccati da altri quali altri i tre quattro ragazzi che avevano condiviso così come in parte quella serata con Michele Denardo un anno e mezzo dopo la stessa sera il 5 giugno del 2006 e questo non si è voluto fare c'è sempre tempo le tecniche sono estremamente sensibili i reperti ci sono perché non farlo ma ripeto è uno degli aspetti perché il cavallo di battaglia di questa nuova indagine che io auspico veramente si possa riaprire sono le contraddizioni che sono agli atti nelle testimonianze dei protagonisti ho letto nel preparare la serata televisiva nel preparare questa puntata dedicata al mistero di Gravina chiedo a lei conferma o smentita che sarebbe stato trovato anche un altro oggetto una batteria di un cellulare Motorola è vero questo? si si assolutamente io poi per mestiere e abitudini non do mai particolari perché preferisco insomma che se ne discuta e che non lo faccio in prima persona si assolutamente si e anche questo sono oggetti che comunque sono stati toccati ora le dico da un punto di vista tecnico ritrovare impronte papillari diventa difficile le impronte papillari sono costituite in massima parte di acqua ma il DNA rimane il DNA oggi ha delle capacità come sappiamo di poter dare dei frutti anche a distanza di tanti anni usiamoli questi oggetti rivisitiamo tutto quello che ancora è disponibile colleghiamolo a tutte le dichiarazioni e ricostruiamo paradossalmente questo Mauro può darmi ragione perché lui ci è arrivato dopo quando poi abbiamo deciso di ricostruire in un libro questa vicenda paradossalmente ma questa indagine è terribilmente semplice dal punto di vista della ricostruzione allora perché non dare a Filippo come diceva la dottoressa la pace di una situazione che lo ha ferito due volte mettendolo alla gogna e facendolo sentire ancora in difficoltà oggi perché comunque lui vive a gravina è inserito in quel tessuto e certamente ancora non si sente libero di tutto quello che ha successo è ancora il mostro perché poi lei mi insegna che a livello mediatico i danni sono notevoli oltre che giudiziari rimane rimane quell'etichetta e la ringrazio quanti casi anche attuali offrono ancora spunti di dubbio per cui si dice eh sì però anche se il processo ha dimostrato è però è però e se è giusto e quindi è giusto sottolinearlo Mauro Valentini un gioco finito male potrebbe essere stato cerchiamo di metterci di tornare a quei giorni magari stavano giocando si stavano tirando i palloncini i ragazzini cadono gli altri scappano ovviamente nascondono tutto perché temono poi di passare per i colpevoli potrebbe essere stato questo? Sai la cosa che mi colpisce in questo caso ma da un punto di vista proprio di analisi certamente non scientifica ma per deduzione proprio personale è il fatto che se di fronte a un evento così grave come quello di una caduta dentro a una cisterna che anche se erano ragazzini giovani hanno sicuramente la correzione del fatto che i testi sono fatti male veramente certo la prima cosa che fai è chiamare la prima cosa che fai è chiamare se non chiami è perché c'è un motivo così importante che ti ferma dal richiamare subito i soccorsi abbiamo parlato insieme di un grande caso di cronaca che conosciamo e che anche Luciano conosce bene come quello del caso Vannini lì stiamo parlando di adulti ma lì c'è stata una volontà di non chiamare immediatamente i soccorsi per chissà quale motivo ci sono delle analogie però anche se età differenti dei protagonisti diciamo che l'analogia sta nel fatto che chi guarda accadere un evento così drammatico il primo problema non è cioè il primo pensiero non è quello che dovrebbe capitare a tutti e cioè quello di chiamare i soccorsi ma invece si fa un ragionamento questo ragionamento che c'è stato fatto a Gravina probabilmente per una cosa io dico così un po' anche per enfatizzare dico una sorta di storia tipo i ragazzi della Via Palla una lite tra preadolescenti e adolescenti magari dovuta a una stupidaggine Filippo parla di una rissa che c'era stata qualche giorno prima forse un piccolo regolamento di conti tra ragazzini una scemenza una scemenza che però diventa un dramma quando probabilmente questo purtroppo è il drammatico sospetto di Filippo e purtroppo anche nostro quando gli adulti convincono oppure qualche elemento leggermente più grande può aver convinto questo gruppetto di ragazzini a tenersi questo segreto questo segreto che immagino sia ancora nelle loro coscienze dopo così tanti anni perché vedi io sono sicuro che se ci fosse stata una caduta accidentale perché giocavano a nascondino o per una o perché si stavano lanciando questi palloncini allora per scappare per evitarli sicuramente il primo ma proprio viene istintivo uscire fuori e chiamare se non chiami è perché tu devi nascondere qualcosa si è parlato che stavano girando forse un film si è parlato di una prova di forza si è parlato di una sorta di penitenza non lo so di quale tipo di cosa ci stavano la questione del girare il film è certa perché i ragazzini lo dicono alla moglie di Filippo prima di uscire e perché comunque viene detta anche da altri ragazzi ecco quella potrebbe essere un punto di partenza stavano forse facendo qualcosa di proibito che non possono che quelli ancora non possono dirci dopo 16 anni ma che soprattutto non si poteva dire neanche quando sono scattate le manette a Filippo cioè cosa c'era di così importante da dover nascondere perché sicuro qualcosa da nascondere c'è dottoressa Barbara Fabroni ho detto ricordo sempre psicoterapeuta e giornalista ma soprattutto nella sua carriera si è occupata molto di bambini di minori ecco vedendo questo caso molti verrà in mente anche un altro caso drammatico situazioni differenti ma molto simile parlo di Alfredino Rampi e della tragedia di Vermicino questo bambino che precipita in quel pozzo artesiano e poi si cerca di recuperarlo ma lui morirà là dentro un po' come morirono Ciccio e Tore poi alla fine di freddo di stenti di tutto di media di tutto ecco se è possibile entrare nella testa di un bambino che vive una situazione del genere prima lo ricordava lo diceva il generale Garofano quale orrore può appunto aver attraversato la mente di un bambino così piccolo in quelle situazioni in quella situazione beh guardi credo che sia inenarrabile anche perché come diceva bene il generale Garofano loro si sono trovati di fronte al nulla in una situazione che era irrisolvibile per loro e non riuscivano a uscirne una trappola cioè mi viene da ricordare veramente Antel e Gretel che poi alla fine c'è stato qualcuno che l'ha salvati loro all'interno di questa cisterna di questa gabbia in cui non riuscivano a trovare veramente una via di fuga e le loro unghie ti hanno graffiato addirittura il muro per poter arrivare a trovare una via di fuga esatto poi pensi quell'età quella è una adolescenza iniziale perché comunque un bimbo aveva undici anni l'altro tredici e comunque si trovano di fronte nel momento anche più bello della vita perché ci sono i giochi ci sono le illusioni ci sono gli eroi ci sono le sfide perché potrebbe come dicevate prima essere un gioco finito male anche una sfida tra ragazzi adolescenti che questo accade la ricerca anche della forza girare un film che forse hanno trovato qualcosa che non andava bene quindi chissà che cosa è accaduto ma la drammaticità di quel momento deve essere stata atroce ed è proprio per quello io mi riallazzo proprio a dare proprio al padre comunque un qualcosa su cui aggrapparsi comprendere che cosa è accaduto non tanto perché poi come dicevate il tutto è andato anche in prescrizione perché ci siano i colpevoli tra virgolette ma soprattutto per dar pace perché comunque nell'anima di quest'uomo di questo padre resta un tormento costante anche perché immagini la narrazione che può fare quest'uomo nel ricordare i figli e quindi nell'immaginarsi che cosa possono aver vissuto cioè mi viene in mente veramente sono dei piccoli ciaola che purtroppo non hanno potuto rivedere la luna non hanno potuto trovare una via di uscita e credo che questa sia una drammaticità infinita e credo che a questa drammaticità ci deve essere una via una soluzione o comunque la possibilità di trovare una motivazione per cui questo è accaduto questo lo dobbiamo a queste due creature che non ci sono più ecco ne abbiamo parlato qualche puntata fa purtroppo sono tanti in Italia gli errori giudiziari generale Garofano prima parlavo del risarcimento per Filippo Pappalardi mi conferma che ha avuto una somma di 20 mila euro per quell'ingiusta detenzione e 45 mila euro per i danni esistenziali queste almeno le fonti che ho trovato è così non più di 60 mila euro ma poi tantissimi problemi legati a quello che è successo dopo perché appunto questa vicenda si è conclusa con la chiusura dell'inchiesta alla sua liberazione che ci sono stati degli strascichi che ancora oggi che ancora oggi in qualche modo vive sì direi direi vergognoso vergognoso per come è stato trattato allora come oggi perché anche oggi dobbiamo pensare alla superficialità al minore rispetto nei confronti di un padre che comunque senza avere alcuna responsabilità ha perso dei figli e che avrebbe comunque comunque il diritto che lo Stato lo ascoltasse è una vicenda questa che tra l'altro nel libro poi leggerete come tra le motivazioni che sono state rigettate dal GIP era quello che era passato talmente tempo così tanto tempo che qualsiasi testimonianza sarebbe stata diluita dalla caduta mnemonica beh credo che la dottoressa sia concorde con me nel dirmi che una vicenda così particolare si stampa in maniera così netta nella memoria per cui coloro che hanno partecipato per poi tradire magari indotti appunto dai loro genitori o dai grandi diciamo così per non accusare nessuno ricorderanno ancora oggi perfettamente forse avranno anche la voglia di liberarsi quindi non accetto che effettivamente tra le motivazioni si sia adotto il fatto che comunque i contributi di oggi sarebbero stati inutili rispetto a quello che è stato raccolto allora perché quello che è stato raccolto allora ahimè ahi noi non è stato discorso e quindi raccogliamolo adesso ci sono le possibilità generale per arrivare a una riapertura del caso alla luce anche dei reperti di cui abbiamo parlato e non solo allora da un punto di vista tecnico tecnico giudiziario giuridico processuale sì però che sa aspetta l'autorità giudiziaria certo questo è chiaro che non ci troviamo di fronte a una revisione è molto più semplice perché basta rieprire un fascicolo e riattivare le indagini è molto più semplice di tanti altri istituti quindi tecnicamente sì il problema è che se c'è la volontà perché indubbiamente questa pagina è una pagina negativa sia per gli inquirenti sia per la procura di Bari quindi può darsi pure che la motivazione sia quella di non voler comunque no scoprire di nuovo un velo rispetto ad una situazione che certamente non va nella direzione della serietà della scolosità con la quale sono state fatte le indagini e questo purtroppo poi riguarda anche tanti altri casi ancora considerati col case ma che appunto potrebbero avere una svolta se riaperti affrontati in modo diverso da come furono affrontati in passato Mauro Valentini il povero Filippo Pappalardi vittima di faida interna familiare del giro di amicizia è una persona che comunque magari si era fatto qualche nemico perché al di là del teorema che ricordava prima il generale Garofano e purtroppo il teorema poi no del PM questo lo diceva anche un carissimo amico nostro Sandro Provisionato che non c'è più quando l'innamoramento della tesi prevale ma al di là di questo c'è qualcuno che può aver voluto del male a Pappalardi Filippo e quindi tenere tutto così nascosto così sta in carcere c'è una narrazione c'è una narrazione da parte dei media che ci racconta di questo uomo così in conflitto sembra con il paese e con la famiglia e con tutto il resto poi però io quello che ho potuto che ho potuto carpire girando per il paese chiedendo chiedendo anche in maniera proprio diretta e sfacciata anche a personaggi illustri della città che si occupano di cultura che sono stati insegnanti nelle scuole che quindi avevano in qualche modo il polso della situazione ho scoperto che invece questa accredine nei confronti dell'uomo non c'era assolutamente anzi io ho sentito solo delle testimonianze di solidarietà nei confronti suoi e anche quando c'è stato il funerale nell'omelia il vescovo ha espresso parole di vicinanza che erano condivise da tutta la cittadinanza per cui non siamo neanche di fronte a un uomo che in qualche modo si è auto come dire a volte succede che ci si auto inserisca in un clima di sospetto lui è un uomo certamente dai modi vigorosi ma che è stato anche considerato molto severo solo perché dava delle regole ai figli ecco questa cosa qui delle regole per esempio a me ha colpito molto nella sana famiglia italiana due ragazzini di 13 e 11 anni alle otto e mezza devono stare a casa è nella logica dei fatti per cui a ditarlo come possibile uomo pericoloso solo perché pretendeva che i ragazzini studiassero si rispettassero le regole della casa e rispettassero i genitori in quanto tali secondo me è partita proprio già con un piede già impantanato nell'assurdo da parte di chi di chi ha cercato di fare poi questa indagine guarda ultimamente ho parlato anche con chi della polizia si è occupato della storia e la prima cosa che mi ha detto è che facendo un sopralluogo immediato nella casa trovarono la stanza di Ciccio Ettore in tonza pulita e con la sensazione di un posto accogliente ecco questa famiglia è stata dovrebbe essere risarcita da un punto di vista morale perché sono stati additati come dei picchiatori come gente che addirittura Filippo che è una cosa Luciano era con me quando l'abbiamo ascoltato non poteva sopportare l'idea che qualcuno avesse addirittura sospettato del fatto che non gli desse da mangiare che per un uomo tutto d'un pezzo come lui era veramente insopportabile ecco siamo di fronte a una ricostruzione mediatica e anche purtroppo dovuta a chi ha fatto indagini di un mostro che mostro non è e guarda è vero quello che tu hai detto non te la togli più questa cosa perché io nei miei social nelle mie pagine social ho pubblicato la copertina e ho trovato tra i tanti commenti di certamente tra quasi la totalità dei commenti di solidarietà nei confronti di questa storia comunque qualche commento ruvido contro di lui come se come se lo avessero conosciuto e con delle indicazioni sulla possibile sua colpevolezza sulla possibile sua moto di violenza diciamo innato che non hanno nessun riscontro oggettivo se non in quello di una narrazione mediatica che è stata distorta e te lo confermo perché poi quando parli di questo caso quando appunto mi è capitato di dire anche a qualche collega che avremmo parlato dei fratellini di Gravina qualcuno ha detto ah sì è stato il padre e poi dopo ha detto ah no però non c'entrava niente il padre ecco questo per dire che poi sbatti il mostro in prima pagina e poi non ce lo togli più poi di fatto non ce lo togli più stiamo in chiusura una battuta con la dottoressa Barbara Fabroni soprattutto a conferma di quello che diceva il generale Chiarofano prima dottoressa certo assolutamente credo che siano voglio dire riflessioni assolutamente condivisibili e importanti ma soprattutto anche come diceva prima adesso il collega comunque che è importante che quest'uomo riprenda il suo posto nel mondo perché comunque noi sappiamo bene il giornalista e il giornalismo a volte può fare dei danni e può aprire delle ferite che dove aggiunge sale a quella ferita per cui sono ferite che diventano irrisargibili ed è importante in questa situazione che le cose ritornino ognuna nel loro posto perché comunque quell'uomo deve vivere continuare a vivere la sua vita quella dignità che ha e portando avanti comunque la famiglia che le è rimasta perché lui comunque ha un'altra figlia ci sono altre due figlie della sua compagna e comunque deve continuare a vivere nel ricordo dei due figli io ho letto anche che tra l'altro un annetto fa circa la tomba è stata anche profanata di questi due fratellini quindi pensate il dolore sul dolore cioè non è bastato quello che è successo quindi tutto quello che gli è stato tirato addosso a questa famiglia a quest'uomo ma pure la tomba è stata profanata quindi molto probabilmente qualcosa deve tornare a posto e soprattutto chi conosce la verità a questo punto deve veramente togliersi quel segreto anche perché se si libera dal segreto quelle persone se si liberano dal segreto si liberano anche da una responsabilità non soltanto verso questi due fratellini ma anche verso se stessi e acquistano la propria libertà di vivere la vita liberi da quel segreto che comunque sia in qualche modo incide anche in quelle vite è un po' come morire ogni giorno senza ridare comunque una degna sepoltura e una dignità a questi due fratellini che comunque sono due vittime in una situazione all'interno di un ambiente comunque di una piccola cittadina in cui mi sembra che non abbiano assolutamente voglio dire la possibilità di riscatto ancora e questo glielo dobbiamo tomba profanata di Ciccettore e questo fatto gravissimo accomuna ancora i due con Alfredino Rampi ricordiamo anche lo sfregio recente alla tomba del piccolo Alfredino Rampi in chiusura con il generale Garofono vengo proprio da lei prima di salutarla generale voleva aggiungere qualcosa no intanto ringraziarvi per questa discussione direi anche sintetica ma comunque approfondita grazie grazie a lei io spero davvero che tutti quanti noi possiamo riflettere perché poi queste questo sforzo che Mauro abbiamo cercato di fare non servirà soltanto a Filippo Pappalari e la sua famiglia ma servirà per il futuro perché appunto Alfredino Ciccettore quanti altri devono essere devono seguire questo destino allora può essere anche un monito affinché effettivamente quando ci si trovi in difficoltà si possa aiutare le persone al di là di tutto mettendo da parte le paure le ipotetiche responsabilità ma venga fuori il senso veramente di altruismo verso il prossimo e quindi è anche un messaggio che vogliamo dare per quei valori che anche Filippo così criticato cercava di trasmettere ai suoi figli grazie al generale Luciano Garofano ha chiuso lei perché le stavo per chiedere se ci sono se vuole appunto chiudere una sorta non tanto di appello proprio di auspicio ma l'ha fatto no auspicio prendendo spunto dal libro dal vostro libro da questa trasmissione e altre che magari dedicheremo in futuro a questo mistero grazie ancora generale buon proseguimento di serata a lei grazie a voi buona serata grazie alla dottoressa Barbara Fabroni psicoterapeuta giornalista la ritroviamo domenica prossima grazie per oggi dottoressa grazie buonasera a tutti grazie a Mauro Valentini ci rivediamo presto qui a Crimine e Criminologia ma tu sei di casa anche a Prisma quindi ti rivedranno presto io sono di casa a Cusano Campus alla storia oscura con Mauro Valentini grazie giornalista e scrittore abbiamo visto e la possiamo rivedere in chiusura proprio la copertina del libro Ciccio Ettore il mistero di Gravina Luciano Carofano Mauro Valentini questo libro è uscito proprio nei giorni scorsi o meglio è stato presentato da domani sarà disponibile nell'istore grazie ancora le linee alla regia Daniele Ricciuto poi torniamo restate lì però perché come da sommario abbiamo anticipato che torniamo a parlare di crimini nei cieli sesta puntata di questa nuova grande stagione e riflettori puntati sul killer silenzioso dei cieli di chi si tratta lo scopriamo tra poco ben ritrovati da Fabio Camillacci terzo capitolo di crimini e criminologia prima di andare al titolo e ad approfondire il tema di oggi legato a crimini nei cieli mi dicono che si è sbloccato anche Whatsapp quindi potete scriverci via sms o attraverso Whatsapp al 334 922 9505 lo vedete in sovraimpressione il numero e dopo che si è sbloccato su Whatsapp mi segnalano che Carlotta da Bologna ci chiede mi sarebbe piaciuto girarlo anche a Mauro Valentini questo messaggio alla collega Barbara Fabbroni poi magari risponderemo in un altro spazio della puntata di oggi domanda per i giornalisti come si coniuga il diritto di cronaca con la doverosa necessità di farci lavorare ai processi senza l'invadenza eccessiva di alcuni giornalisti alcuni sono terribili lei sottolinea sono avvocato magari questa ce la teniamo in caldo cara Carlotta per altre occasioni quando ci saranno altri giornalisti come è capitato naturalmente intanto andiamo al prossimo argomento sesta puntata di una nuova grande stagione di crimini nei cieli il titolo di oggi è il killer silenzioso dopo aver parlato di aerei scomparsi bombe a bordo pilota piloti suicidi questa sera eccolo qui in studio Antonio Bordoni esperto sicurezza volo buonasera e bentornato buonasera a tutti ci parlerà di questo insolito killer che lui stesso ha definito il silenzioso killer dei cieli come avvenuto quando ci ha fatto conoscere i fumvents a proposito dell'aria tossica che si può respirare a bordo degli aerei anche l'argomento di questa sera tratta di un problema conosciuto da pochi che proprio per questo però è importante renderlo noto come facciamo qui e anche in questa puntata potrete notare come la nostra trasmissione non si limita a ricordare la semplice cronaca di incidenti avvenuti ma cerca di trasmettere informazioni utili argomenti pressoché sconosciuti alla gran parte dei passeggeri e crediamo che questo sia un punto da apprezzare della nostra serie crimini nei cieli oggi come detto tratteremo di quella che in gergo aeronautico viene definita noi la traduciamo in stanchezza in realtà è definita fatiga fatiga fatica stanchezza stanchezza ecco entriamo subito nel merito sì la stanchezza come tutti sappiamo può dipendere da un eccessivo sforzo fisico da eccessivi sforzi fisici oppure dalla perdita ripetuta di sonno e l'insidia il tranello la cosa subdola di questo argomento è che noi siamo i peggiori valutatori delle nostre cognizioni diciamo così di stanchezza perché non ci rendiamo conto se siamo realmente stanchi se è il momento di fermarci o meno l'esempio più classico che vi posso fornire che a tutti i capitati è quello del colpo di sonno che può avvenire alla guida di un veicolo quindi è un male subdolo che può intervenire in qualsiasi momento e che colpisce quindi soprattutto chi svolge attività H24 quali sono appunto i piloti ed anche i controllori di volo ecco voglio ricordare che il sonno è naturalmente associato ai ritmi circadiani del corpo i turni di lavoro e il transito attraverso i fusi orari possono interrompere i ritmi circadiani per cui ad esempio può essere difficile per l'equipaggio di volo o per i piloti in servizio nelle prime ore del mattino o per l'equipaggio di volo che opera su rotte a lungo raggio attraverso più fusi orari ottenere un riposo soddisfacente non solo durante il volo ma addirittura prima di iniziare il servizio e qui con Daniele Ricciuto possiamo già proporvi la prima slide mentre ci da conferma di questo i ritmi circadiani penso sono conosciuti un po' da tutti e che cosa ci dicono ci dicono che ad ogni ora del giorno dovrebbe corrispondere un esercizio o un'attività principale da svolgere come tutti sappiamo in questi ultimi tempi la melatonina per esempio è diventata di grande attualità perché con l'avvicinarsi delle ore notturne il nostro corpo produce melatonina che serve appunto a farci entrare nell'attività di sonno ristoratore riposatore e purtroppo potete immaginare voi stessi piloti e controllori di volo che devono stare di turno ripeto nelle 24 ore purtroppo i ritmi circa di anni non li possono assolutamente rispettare ed è per questo che molte volte voi sui giornali leggete di piloti addormentati che ovviamente la notizia di per sé fa molto paura eh sì adesso andiamo a parlare un po' di qualche esempio immagino che Antonio Bordoni ci parlerà come primo esempio di quello di un capitano che durante il volo ha riconosciuto di non essere in forma e lo ha dichiarato apertamente al suo secondo ufficiale quindi fortunatamente pochi però qualcuno c'è che si accorge di non stare bene e lo dice era il 15 agosto del 2016 siamo a bordo di un Airbus della Witzer la Witzer per chi non lo sapesse è una delle concorrenti attuali delle due grandi compagnie low cost la EasyJet e la Ryanair è una multinazionale ungherese che anche lei ha molte basi sparse in Europa e nel Mediterraneo quest'aereo aveva fatto la mattina la tratta da Riga a Barcellona e adesso stava facendo il ritorno da Barcellona a Riga con a bordo 182 persone già dalla partenza da Barcellona il capitano aveva espresso dei problemi riguardo l'orario di partenza ai ritardi comunque il decollo era venuto abbastanza regolarmente e il volo si svolgeva in assoluta tranquillità se non che quando l'aereo stava sorvolando il nord Italia stiamo parlando di un volo da Barcellona a Riga stava sorvolando il nord Italia il comandante si è reso conto di non stare troppo bene addirittura si è saputo poi a posteriori quando è stata aperta l'investigazione che si trattava di attacchi di panico fortunatamente si è reso conto della cosa ha avvertito il suo secondo pilota il secondo pilota ha avuto la fortuna di poter contare su un altro pilota che stava a bordo come passeggero che l'ha affiancato e ha preso il posto del capitano e si è pensato ad un atterraggio di emergenza a Milano però poi tenendo conto che in cabina sedevano due piloti esperti anche se il capitano ormai era stato messo fuori uso e si è deciso di proseguire il volo ovviamente a posteriori è stata aperta un'inchiesta investigativa e si è appurato che il capitano soffriva di una severa e profonda depressione con attacchi di panico qui torniamo a un vecchio tema che abbiamo già approfondito sì esatto e diciamo che lui innanzitutto e questo qua è un tema ricorrente che toccheremo anche questa sera in diversi incidenti in altri incidenti aveva avuto problemi di famiglia aveva avuto problemi di famiglia c'erano stati dei voli che non erano andati bene ma soprattutto il suo grande problema era quello di dover essere sempre spostato da una base all'altra allora una delle delle prerogative delle compagnie low cost è che hanno aperto le basi le basi vuol dire che anche se tu per esempio sei di nazionalità ungherese può darsi che ti metti in servizio a una base italiana o una base di Malta o una base del Medio Oriente e quindi tu incominci a vivere lì mentre la famiglia ce l'hai da tutt'altra parte ecco questo era uno dei problemi che il comandante ha svelato che gli gravavano molto per il suo lavoro ecco peraltro proprio nel preparare questa puntata di crimini nei cieli quando ho saputo che avremmo parlato della stanchezza dei piloti mi è tornata alla memoria una notizia letta tempo fa sui quotidiani circa un capitano della Ryanair peraltro ecco abbiamo anche l'apposita foto che doveva atterrare a Roma ma il quale ebbe problemi perché aveva avuto un recente forte dispiacere in famiglia sono andato a riprendere questa notizia di che parliamo è una notizia che ha fatto molto colpo sulla stampa era un volo dalla Germania a Ciampino e quando l'aereo della Ryanair è giunto in prossimità di Ciampino c'era tempo pessimo un meteo pessimo e quindi il capitano è stato invitato a dirottare su Fiumicino perché su Fiumicino c'erano stati alcuni atterraggi riusciti malgrado anche lì ci fosse cattivo tempo allora il capitano ha tentato l'atterraggio a Fiumicino non che è stato mancato però la cosa preoccupante di questo incidente è che l'aereo ha incominciato a girovagare nei cieli del Lazio senza che a bordo si rendessero conto di dove stavano andando ovvero sia in attesa del miglioramento delle condizioni meteo a Ciampino in attesa di sapere se potevano atterrare a Fiumicino o meno a bordo dell'aereo proprio si era creata a bordo della cabina di pilotaggio si era creata una situazione surreale il comandante sembrava quasi addormentato dico quasi addormentato il secondo pilota un ragazzo di credo 27 anni non era molto esperto non aveva molte ore di volo sulle spalle e praticamente stava aspettando che il capitano si svegliasse da questo torpore in cui era caduto e l'aereo continuava a girovagare nel Lazio in attesa che da terra gli dicessero ok è migliorata la situazione qui è migliorata la situazione lì per cui si era in attesa di un di una istruzione per l'atterraggio e a un certo punto il copilota fortunatamente ha avuto la iniziativa davvero ragguardevole di dare un colpo di mano sulla spalla quasi per dire capitano che facciamo per destarlo dal torpore in cui era caduto il capitano proprio perché non si poteva andare avanti in questa maniera e il capitano a quel punto si è reso conto non si era addormentato attenzione non si era addormentato si è reso conto che non aveva perso la situazione il controllo della situazione e ha ripreso il comando del velivolo dunque si è stata e l'aereo è andato a finire a pescara è atterrata a pescara quasi al limite del carburante che aveva a bordo ed è stata aperta un'inchiesta bene cosa è venuto fuori l'inchiesta è stata aperta dalla nostra ANSV l'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo è venuto fuori che il capitano come abbiamo visto nel titolo aveva avuto poche settimane prima la perdita del figlio di tre anni era morto improvvisamente e praticamente non aveva avuto il coraggio di dire alla sua compagnia che cosa era successo perché aveva il timore di perdere il posto che l'avessero temporaneamente messo da parte quindi ha preferito non dire niente e in questo volo è venuto fuori tutto il problema e quindi è stata fatta una raccomandazione poi anche alla Ryanair perché praticamente i piloti alcuni piloti di alcune compagnie piloti di alcune compagnie temono di perdere il posto qualora non osservino determinati parametri di volo eccetera eccetera e quindi ha cercato di tenere nascosta la cosa ecco quando abbiamo parlato dei problemi di depressione di molti piloti in molti casi Germanwings ma altri che abbiamo trattato qui in questo nuovo ciclo crimini nei cieli Antonio Bordoni a proposito di quando si prende un aereo ha usato una diciamo un'immagine forte no? è come entrare in sala operatoria tu lì sei nelle mani del chirurgo qui comunque sei nelle mani di un pilota in questi casi comunque no? questi che abbiamo narrato tutto è andato per il meglio è andato per il meglio ma non è andato per il meglio il prossimo caso che vi narrerò si trattava di un volo interno statunitense da Newark di New York a Buffalo a bordo troviamo un comandante di 47 anni e Rebecca che aveva 24 anni Rebecca Shaw con poche ore di volo sulle sue spalle praticamente cosa è accaduto che mentre l'aereo si trovava in fase di atterraggio a Buffalo ha incominciato a rollare a rollare ha fatto il pitch and roll e quindi ha perso quota ed è precipitato sulle case di Buffalo provocando anche una vittima a terra abbiamo anche il rapporto investigativo si abbiamo il rapporto investigativo composto da 299 pagine di 299 pagine perché il racconto di questo incidente perché al di là del lato tecnico perché poi si è scoperto che i piloti Rebecca e l'altro pilota il comandante di fronte a queste oscillazioni che faceva il bombardiere si trattava di un DHC8 bombardiere avevano tirato a sé troppo la leva di di comando diciamo e l'aereo è andato in installo un po' quello che era successo Air France 447 sull'oceano atlantico quindi l'aereo è precipitato e va bene questo è stato un incidente come purtroppo tanti avvengono che cosa è venuto fuori però da questo incidente e perché ne parliamo questa sera di fronte al killer silenzioso dei cieli ne parliamo questa sera perché è venuto fuori che Rebecca non dormiva da tante tante ore e viveva molto distante dal Newark da cui era iniziato il volo e la stessa cosa si può dire anche per il capitano perché anche lui aveva riposato pochissimo e viveva in Florida e tutte e due Rebecca e il capitano avevano dovuto prendere degli aerei per giungere a Newark in tempo per assicurare questo volo anche qui troviamo che la compagnia pretendeva che i piloti giungessero a Newark a loro spese e in perfette forme fisiche e non li faceva nemmeno riposare negli alloggiamenti previsti per gli equipaggi negli aeroporti quindi proprio una situazione disastrosa che viene riepilogata in quelle due esatto e le vado a ricapitolare io il capitano al momento dell'incidente era stato sveglio almeno 15 ore consecutive tre in più di quelle che uno studio dell'NTSB individua essere causa di decadimento delle prestazioni infine l'incidente era avvenuto in un'ora in cui il capitano normalmente andava a dormire il secondo pilota anche lei non era affatto riposata la notte precedente la sciagura si era trasferita da Seattle a Newark cambiando aereo intorno alla mezzanotte a Memphis arrivando al Newark alle 6.30 che però equivalevano alle 3 ora di Seattle anche lei pertanto aveva accumulato un forte debito di sonno arretrato nelle precedenti 34 ore il rapporto stimava in 8,5 le ore di sonno complessivamente usufruite delle quali però 3,5 verosimilmente svolte durante i voli ecco perché killer silenzioso di questo incidente la serie Mayday che voi sicuramente conoscete ha fatto un episodio il cui titolo era Dead Tired Stanchi Morti ecco il titolo più indovinato non ci poteva essere a questo punto possiamo dire di esserne abbastanza certi la domanda che il nostro pubblico si starà facendo si sarà apposta è che ci saranno pure delle regole che le compagnie devono rispettare nell'assegnare i turni ai piloti perché altrimenti il pubblico avrà timore a salire su un aereo quindi tranquillizziamo le regole esistono bella domanda questa dunque se voi prendete un qualsiasi rapporto investigativo qualsiasi noterete che in apertura proprio ci sta un riquadro nel quale vengono sommarizzate vengono elencate quante ore l'equipaggio ha volato nelle ultime 24 ore negli ultimi sette giorni negli ultimi sette giorni e negli ultimi 90 giorni 24 7 e 90 dovremmo avere una slide su questo se non ricordo male a proposito di questa tabella che ci stai dicendo l'avevamo già intravista prima per esempio è stata tratta dall'incidente Colgan Air quello lì di Baffalo vedete bene che nelle precedenti 24 ore il capitano aveva volato 7 ore e 50 minuti nelle precedenti sette giorni aveva volato 30 ore e 9 minuti nelle precedenti 90 giorni 219 ore e 45 minuti quindi queste tabelle diranno sempre che capitano e secondo pilota hanno volato nei limiti della legge però il problema non è questo il problema è che queste sono le ore effettivamente volate quando tu pilota hai dato il via al decollo e sei riatterrato all'aeroporto di destinazione però che cosa ha fatto il pilota prima di quel decollo si è riposato quanto tempo ci ha messo per poter andare all'aeroporto a prendere l'aereo che cosa ha fatto come ha usato il suo tempo fra un riposo e l'altro questi sono i veri problemi è stato bene è stato poco bene ha avuto problemi in famiglia e questi sono i veri problemi che stanno ben al di là delle ore che io effettivamente ho volato perché è chiaro che in questi specchietti noi troveremo sempre che la compagniera ha assolto i suoi compiti nel senso che ha fatto volare pilota è secondo pilota nei tempi previsti dalla legge però bisogna vedere che cosa è successo fra un turno di riposo fra un volo e l'altro volo che cosa è successo nel turno di riposo io vi posso raccontare una storia che un equipaggio della British Airways a Bombay che doveva una bella mattina svegliarsi e portare un jumbo da Bombay lì a Londra a Etro si è rifiutato di volare ha fatto rimanere tutti i passeggeri a terra per il semplice motivo che durante la notte nell'albergo dove l'equipaggio riposava o avrebbe dovuto riposare c'era stato un macello infernale perché c'era una festa di un matrimonio indiano lì nello stesso albergo quindi nessuno dell'equipaggio ha potuto dormire bene quel comandante ha preso la saggia decisione di non svolgere il volo ha fatto venire un altro equipaggio da Londra e l'aereo è partito con ritardo però lui non se l'è intesa di portare il jumbo da Bombay a Etro perché non aveva riposato durante la notte ecco questo per dirvi che non è tanto le ore di volo che contano ma è quello che succede fra un volo e l'altro e quindi grande senso di responsabilità in questo caso dovrebbero avere tutti i piloti per chiudere domanda obbligatoria ovviamente anche questa magari se ne è posta il pubblico di crimine e criminologia quanto sono frequenti incidenti dovuti al sonno nel cockpit e in chiusura soprattutto se ci sono casi recenti da ricordare di sonno a bordo provviso succede spesso succede spesso per il semplice fatto come vi ho detto tante volte che ormai gli aerei sono portati dal computer quindi una volta messa nel computer la rotta che l'aereo deve seguire l'aereo vola da solo quindi capita purtroppo molto spesso che i piloti dovrebbero fare a turno nel senso tu porti l'aereo io mi faccio un pisolino e viceversa o viceversa ma purtroppo si addormentano tutte e due è quello che è successo il 15 agosto di quest'anno è qui vediamo a un volo della Ethiopian Airlines da Khartoum ad Addis Abeba che poi questo volo è pure corto perché dura due ore l'andata e due ore il ritorno praticamente l'aereo è arrivato su Khartoum e avendo nel piano di volo già programmata tutta la rotta con la discesa da Khartoum verso l'aeroporto ha sorvolato l'aeroporto di Khartoum a questo punto l'autopilota si è disconnesso e voi dovete sapere che quando l'autopilota si disconnette e mette un avviso sonoro i due piloti si sono svegliati e si sono accorti che erano arrivati a destinazione e l'avano superata e quindi hanno finalmente portato l'aereo a terra questo è successo il 15 agosto di quest'anno purtroppo per rispondere alla domanda succede spesso fortunatamente è andato sempre bene peraltro sorrido perché è arrivato un messaggio al 334 92 29 505 di Simone da Barletta che ci scrive domani mattina devo prendere un aereo il dottor Bordoni che dice lo posso prendere soprattutto poi ha aggiunto ma il dottor Bordoni vola regolarmente e serenamente prendi aerei allora guardate voglio rassicurare tutti quanti nel 2021 secondo gli ultimi dati sulle strade italiane ci sono stati 3.000 e passa morti per incidenti stradali nel mondo nel 2021 abbiamo avuto soltanto un centinaio di vittime per incidenti aerei allora solo Italia 3.000 morti quando si sale in macchina tutto il mondo 100 morti in tutti i servizi mondiali aerei fortunatamente il computer il computer ha assolto molti compiti dei piloti e anche se oggi i piloti possono ancora sbagliare il computer può sempre supplire a questo errore è così abbiamo rassicurato e tranquillizzato tutti volate tranquilli ecco hai fatto bene a ricordare poi questi dati perché è chiaro io sto in una tradizione che si chiama crimini e criminologia quindi devo raccontare di queste storie qui vorrà dire che la prossima volta anziché crimini e criminologia parleremo di qualche altra cosa non so di incidenti un po' più spiacevoli visto che la settimana prossima saremo vicini al Natale di fatti strani parleremo di fatti strani ecco questa all'anticipazione per la prossima puntata di crimini nei cieli grazie ad Antonio Bordoni esperto sicurezza volo anche per oggi grazie a voi la linea a Daniele Ricciuto tra poco torniamo con la chiave di volta e parleremo dell'atroce fine di Saman Abbas con la dottoressa Antonella Elena Rossi psicologa e criminologa quindi non cambiate canale restate con noi crimini e criminologia ben ritrovati da Fabio Camillacci quarto capitolo di crimini e criminologia dopo crimini nei cieli la chiave di volta andiamo a vedere a ricordare il titolo perché lo abbiamo già introdotto in apertura l'atroce fine di Saman Abbas ovviamente la chiave di volta vede collegata o l'avvocato Elisabetta Aldrovandi oppure la dottoressa Antonella Elena Rossi psicologa e criminologa proprio lei abbiamo in collegamento questa sera buonasera ben ritrovata buonasera ben trovati anche voi è sempre un piacere ecco allora andiamo a dare gli ultimi aggiornamenti di questa incredibile storia a Reggio Emilia dopo l'autopsia sul corpo di Saman Abbas che è iniziata a Milano nei prossimi giorni saranno svolti gli esami istologici perizie che saranno volte a confermare l'ipotesi degli investigatori che la morte della ragazza sarebbe avvenuta per strangolamento quindi per asfissia nella stessa notte della scomparsa il 30 aprile 2021 dalla cascina di Novellara questa almeno a quanto si apprende l'ipotesi di lavoro degli anatomopatologi del laboratorio Labanoff dell'Università di Milano sul corpo della 18enne non sono state trovate tracce di sangue quindi esclusa la possibilità di una morte dovuta a ferite da armi da taglio e queste sono le immagini proprio di quando fu ritrovato il corpo i resti il corpo della povera Samanna Bass anche se in un primo momento dottoressa qualche organo di stampa aveva parlato di taglio alla gola quindi come se fosse stata sgozzata la povera Samanna Bass invece adesso apprendiamo ancora più atroce se vogliamo perché evidentemente lei mi insegna da criminologa una morte che è ancora più cioè forse uno si rende ancora più conto di quello che accade sì allora sì sicuramente la ragazza si è assolutamente resa conto che tanto secondo me lei si è resa conto che andava incontro alla morte quando ha capito che tutte le rassicurazioni che arrivavano dalla madre partono dalla famosa telefonata per cui lei era tornata a casa dove la mamma gli aveva detto ti aiuto non ti preoccupare siamo la tua famiglia già da lì in quelle ultime inquadrature di quella telecamera che inquadrano questa ragazza che va incontro alla morte in qualche modo si vede già una ragazza molto rannicchiata che secondo me già sta sospettando di andare incontro alla morte è chiaro che la morte per la sfissia è una morte tra me nel senso che proprio sai che stai morendo e non puoi fare niente ti rendi conto lo sgozzamento è terribile però magari è immediato allora lo sgozzamento soprattutto appunto con una ferita molto molto netta nel giro di almeno tre secondi tre quattro secondi la persona perde i sensi mentre con la sfissia la persona si sta assolutamente rendendo conto di quello che gli sta succedendo e di quello che gli accadrà per cui è ancora peggio in più pensiamo che questo corpo è stato un anno e mezzo sottoterra per cui è anche molto difficile capire nelle varie autopsie quale è stato il tempo di morte che tipo di asfissia c'è stata se col cappuccio se con un legaccio poi bisognerà un po' capire per cui anche se è molto ben conservato da quello che dicono il corpo da tutte le indiscrezioni che stanno venendo fuori è chiaro che sarà anche molto difficile risalire anche a delle tracce biologiche perché è stato interrato per un anno e mezzo insomma per cui bisognerà anche capire che è il diciamo tra virgolette colui che ha compiuto veramente l'atto poi sono tutti complici sono tutti pernefici questo è molto molto chiaro insomma adesso vediamo chi ha compiuto effettivamente l'atto insomma che sembrerebbe questo zio però bisognerebbe capire un attimo com'è la dinamica peraltro poi ecco ricordiamo nel 2023 ci sarà il processo quindi comunque poi ci saranno inevitabilmente degli sviluppi intanto però per riassumere un po' la vicenda andiamo a vedere insieme il servizio firmato Piercarlo Fabbi vediamo la vicenda di Saman Abbas diciottenne di origine pakistana che viveva con la famiglia Novellara in provincia di Reggio Emilia ha inizio la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 quando la giovane scompare misteriosamente allertati dal suo fidanzato Sakib il 5 maggio 2021 i carabinieri suonano a casa della ragazza dopo la denuncia di sparizione senza trovare né lei né i suoi genitori tornati in Pakistan per assistere una zia malata secondo la versione fornita dal fratello minorenne della ragazza e da suo zio Danish diversa però la testimonianza di Sakib che ha detto di aver ricevuto un messaggio vocale attorno alle 23 e 30 del 30 aprile 2021 in cui Saman gli spiegava di avere timore per la sua vita e di aver sentito i genitori parlare di un piano per ucciderla da quel momento della ragazza si perdono le tracce la vicenda inizia in realtà un anno prima della sparizione quando Saman ancora 17enne si rivolge ai servizi sociali per denunciare i genitori per maltrattamenti e per il reato di induzione al matrimonio la ragazza non accettava le nozze combinate decise dalla famiglia con un cugino in Pakistan e si rifiutava di indossare il velo islamico le indagini quindi puntano sull'ipotesi per cui la giovane pakistana sarebbe stata presumibilmente uccisa dai suoi familiari per essersi opposta alle nozze forzate il 7 giugno del 2021 viene ufficializzata l'iscrizione nel registro degli indagati di cinque familiari della giovane lo zio e due cugini oltre ai suoi genitori l'accusa è omicidio in concorso e occultamento di cadavere il 19 novembre resti umani che potrebbero appartenere a Saman vengono trovati in un casolare abbandonato di Novellara vicino all'abitazione della famiglia Abbas la prima audienza del processo è fissata per il 10 febbraio del 2023 questi fatti anche per ricordare un po' l'intera vicenda proprio il servizio di Piercarlo Fabi si concludeva con la prima udienza in molti ultimamente hanno anche dubitato che si potesse trattare proprio del corpo della povera Saman Abbas però ricordiamo Saman aveva addosso i jeans sfilacciati dalle stesse sul ginocchio per essere alla moda la felpa e quella che abbiamo visto anche all'inizio di questo video che questo è peraltro un video postato girato e postato dalla stessa povera Saman Abbas i vestiti sembrano essere proprio quelli riconducibili al video ecco qua proprio Daniele Ricciuto ci sta mostrando anche il dettaglio della cavigliera no dottoressa si infatti questo particolare della cavigliera è venuto fuori dicendo che appunto c'è appunto questa cavigliera che lei che questo corpo avrebbe addosso ancora io credo che purtroppo siano purtroppo i resti di questa ragazza perché tutti spereremmo è chiaro che un corpo è comunque è stato ritrovato però spereremo che questa ragazza sia salvata ma di fatto non ha potuto salvarsi da una furia dovuta a un livello di familiare no lei è stata una vittima sacrificale avevano già deciso che lei non avrebbe dovuto vivere perché aveva trasgredito una legge familiare e la madre che in questo momento è l'abitante è stata con lei che ripeto la tratta nella trappola per cui c'è proprio un disegno che noi non possiamo neanche capire c'è anche molto scuro facciamo un po' fatica a capire infatti stavo per chiederglielo proprio da psicologa come si può spiegare una cosa così orribile così atroce è vero è un'altra cultura un'altra religione per carità allora ci sono due due cose da dire importantissime una era che bisognerebbe capire se loro in qualche modo avessero in qualche modo avvallato il matrimonio non convenzionale diciamo col fidanzato della figlia che tipo di conseguenze potrebbero avere avuto loro addirittura la famiglia se hanno dovuto scegliere tra il sacrificio di Hamas e un sacrificio ancora più pesante questa è un'ipotesi che noi dobbiamo fare e dobbiamo anche tenere ben presente no? l'altra cosa è proprio anche che Hamas appunto col suo gesto abbia come si può dire disonorato tutta la famiglia per cui era stata in qualche modo espulsa dalla famiglia per cui era già morta nella loro testa per cui hanno eliminato il corpo ma lei era già stata espulsa anche perché aveva fatto emergere appunto rivolgendosi ai servizi sociali a tutto un altro tipo di sistema che la stava difendendo aveva fatto emergere tutte le disfunzioni della loro famiglia e anche del loro approccio culturale che non è un approccio culturale di tutta questa cultura chiaramente questo è risponte a una famiglia disfunzionale comunque cioè qua c'è comunque una disfunzionalità è una problematicità nell'affrontare determinate tematiche cioè un'ossessione sul discorso dell'onore familiare siamo quasi dentro a una piccola mi lasciate passare il termine a una piccola setta dove appena tu esci devi essere eliminato per cui diciamo che al di là del fattore culturale c'è proprio un problema di di salicità familiare questa mamma che è così latitante che vediamo anche sorridere in un filmato ci fa molto impressione questo sorriso di questa mamma che abbassa la mascherina e sorride come si fa a sorridere sapendo che hai lasciato un figlio sedicenne da solo e probabilmente una figlia morta per cui qui c'è proprio un vedete c'è questo sorriso ecco per dire ma come si fa com'è possibile per cui io credo che qui ci sia proprio un problema psicologico molto molto forte in questa donna che si è sentita tradita dai suoi figli e siccome è quasi una matriarca è lei che fa giustizia perché è lei che fa in inganno la figlia dopo ripeto non sto salvaguardando chi l'ha uccisa ma lei dice alla figlia torna a casa che ci stiamo e questa è la cosa più atroce eh sì peraltro non è il primo caso perché ricordo adesso non benissimo nel dettaglio ma un fatto simile è avvenuto a Brescia sempre no ragazza uccisa perché si era un po' troppo occidentalizzata ecco quindi le chiedo eh può essere diciamo così un problema cioè un fatto il non trovarsi nella propria terra d'origine ma trovarsi in occidente a scatenare tutta questa violenza quasi una rabbia eh recondita che poi esplode allora eh succede questo che questi ragazzi eh sono vengono chiamati di seconda generazione anche se magari non sono nati qua sono nati magari nella loro terra d'origine poi arrivano qua che sono piccolissimi per cui vengono chiamati i ragazzi lacerati nel senso cosa vuol dire che sono i ragazzi lacerati che da una parte hanno una famiglia che è molto radicalizzata sulla loro sulla loro cultura per cui difendono a spada tratta addirittura ci sono degli studi antropologici che dicono che coloro che emigrano in un altro paese anche gli italiani anche italiani che emigrano anche in altri in altri paesi tendono a mantenere una tradizione culturale che è molto retrograda rispetto al paese d'origine cioè tendono a radicalizzare come se avessero paura di far sfuggire le proprie origini per cui queste famiglie diventano ancora più oppressive con invece questi ragazzi che appunto vengono chiamati lacerati perché invece vorrebbero liberarsi da determinate da determinate tradizioni che per loro sono non significative sono insignificanti soprattutto le ragazze che invece ravvisano nel nostro paese la possibilità di poter vivere l'amore in maniera assolutamente libero da convenzioni e costrizioni per cui c'è proprio uno strappo così forte tra la famiglia e il ragazzo che si arriva a una violenza molto molto forte eh sì purtroppo ecco questa è la situazione in quel caso anche quel caso fece fece molto eh addirittura gli diedero fuoco mi pare mi pare di ricordare la ragazza adesso non mi ricorda forse prima la sgozzarono e poi le diedero fuoco qualcosa comunque c'è una cosa orribile come se si volesse veramente cancellare la presenza di queste ragazze che rimanda a queste madri tra l'altro il fatto che loro si sono potute liberare probabilmente questa mamma ha subito per prima la sorte che voleva far subire la figlia per cui è diventata doppiamente carnefice perché la figlia era riuscita a liberarsi per cui a screditarla per cui assolutamente davanti alla sua famiglia che gli diceva tu non sei stata capace di crescere una figlia secondo le tradizioni e B in qualche modo gli rimandava invece una libertà che lei non era riuscita assolutamente a guadagnarsi per cui c'è un un gioco di specchi sadico che va che che porta queste donne a una sadicità e una trudeltà quasi incomprensibile per noi e altri dati a proposito dei prossimi passaggi a livello giudiziario ricordiamo il 23 novembre scorso durante l'udienza di conferimento in 60 giorni la corte ha fissato il termine ultimo per i risultati il 10 febbraio comincerà invece il processo a Reggio Emilia 5 gli imputati lo zio Danish Asdain i cugini Ikram Jiaz e Nomaulak tutte e tre in carcere il padre Shabbar Abbas arrestato un mese fa in Pakistan dove si è in attesa dell'udienza che decida sull'estradizione e la madre Nazia Shahin ancora latitante in patria devono tutti rispondere di omicidio premeditato in concorso sequestro di persona e soppressione di cadavere in apertura abbiamo parlato sempre a proposito di ragazzi in quel caso proprio di minori di una tragedia dei fratellini di Gravina lei ricorderà benissimo di Ciccio Ettore e ho chiesto alla psicoterapeuta e giornalista cosa può provare un bambino di 11 anni e 13 come avevano Ciccio Ettore trovarsi lì nel buio feriti e aspettare la morte invece chiedo a lei una ragazza come Samana Abbas così come lei e tanti altri che come ha detto sono cresciuti qui in occidente però influenzati dalla cultura del loro paese comunque da religione musulmana da tutto il resto ragazzi così come vivono quotidianamente no il rapporto con i propri familiari perché per fortuna non tutte o tutti no finiscono come Samana Abbas o come l'altra di Brescia che abbiamo ricordato però immagino che sia difficile la convivenza con genitori se hanno quel tipo di concezione dottoressa quindi immagino litigi continui magari anche saranno picchiati cioè come fa un minore o anche un adolescente che ha compito 18 anni a convivere con una situazione del genere non credo che sia facile no? allora dipende cioè vivi con due culture diverse tu sei qui in un occidente però la famiglia ti influenza su altro esatto loro tendono ad occidentalizzarsi perché l'adolescenza in generale porta all'omologazione se noi guardiamo gli adolescenti sembrano tutti uguali si vestono tutti uguali cioè già questo è il primo strato il secondo strato per esempio molto spesso rinnegano la lingua materna per cui imparano benissimo l'italiano imparano benissimo la lingua della terra ospitante o il francese o dipende dalla terra dove si trovano per cui fanno spesso nelle famiglie funzionali cioè nelle famiglie dove c'è una voglia anche di integrarsi per cui dipende anche dal progetto di vita della famiglia se c'è una famiglia che si vuole integrare che vuole rimanere nel paese dove è emigrata in qualche modo è un bel ruolo il loro ruolo perché fanno anche da ponte perché per esempio spesso e volentieri io li vedo che portano i genitori negli uffici li traducono per cui sono anche dei grandissimi traghettatori e lì c'è un rapporto con i genitori sempre però negando la propria famiglia d'origine io parlo con ragazzine che magari sono brasiliane piuttosto che marocchine e loro dicono soprattutto le femmine tendono proprio a rimuovere mentre i maschi tendono a mantenere a volte le cose belle della propria cultura per esempio il maschio deve essere predominante per cui i maschi tendono ad essere predominanti e poi però apprendere tutto quello che può essere la cultura che li ospita perché? perché il loro primo bisogno è l'integrazione per cui anche la mimetizzazione a volte per cui proprio si mimetizzano perché l'adolescente si vuole mimetizzare perché il suo primo obiettivo è l'accettazione per cui nelle famiglie che funzionano nelle famiglie che hanno un progetto di vita di integrazione sono appunto dei ponti che poi possono veramente diventare molto funzionale a tutto il ruolo familiare nelle famiglie disfunzionali come queste poi sono le vittime disegnante perché sono coloro che rimandano la voglia di sganciarsi completamente poi se la famiglia d'origine si rigidisce nel far sì che questi ragazzi vadano avanti con la tradizione questi ragazzi tendono proprio a strappare quella cosa che potrebbero invece accettare della propria cultura per cui è sempre lì è sempre lì l'aiutare l'integrazione questa è la chiave di volta infatti stavo per chiederle visto che siamo quasi in chiusura stavo per chiedere ma è proprio questa la chiave di volta no? la chiave di volta è proprio questa e sta sempre nell'educazione per cui la scuola ha un grandissimo ruolo di integrazione ma anche soprattutto di vedere e di intercettare spesso e volentieri la solitudine di questi ragazzi perché poi per esempio faccio un esempio faccio un esempio per tutti ci sono ragazzi che hanno delle lingue completamente diverse di origine completamente diverse dall'italiano per cui penso a un cinese per cui penso anche a un ragazzo dell'Africa del Nord fanno più fatica anche con l'apprendimento perché il loro cervello funziona in maniera diversa per esempio pensiamo alla scrittura dei paesi arabi che è completamente diversa dalla nostra per cui vanno aiutati sia nell'apprendimento moltissimo vanno aiutati moltissimo nell'inclusione ma nell'inclusione familiare soprattutto quando si vede che c'è spazio bisogna avvicinare queste famiglie e fargli capire che il processo di integrazione passa anche attraverso l'allentamento anche di certe rigidità e c'è un messaggio una domanda per la dottoressa Antonella Elena Rossi proprio in chiusura di chiave di volta perché Mina che ci scrive da Napoli le chiede se questo problema ovviamente vado a sintetizzare il messaggio perché è particolarmente lungo però se questo problema che abbiamo riscontrato purtroppo con Samana Bass esiste anche con cittadini italiani cioè con adolescenti nel rapporto con la famiglia nella serie sto con un ragazzo che però non piace ai miei genitori e quindi ho dei problemi assolutamente sì assolutamente sì non si arriva a questi livelli non si arriva all'uccisione però sappiamo che ci sono assolutamente dei casi anche dove si arriva alla segregazione sono anche stati fatti che sono imbalzati all'onor delle cronache purtroppo delle cronache purtroppo è chiaro che spesso e volentieri la comunità intorno se si tratta di famiglie italiane si tende a in qualche modo a far risaltare di più questo problema e magari possono intervenire di più i servizi sociali mentre se ci sono delle famiglie stranieri sono molto più incapsulate per natura per cui fanno più fatica a far emergere queste difficoltà infatti Saman era una ragazza particolarmente coraggiosa perché aveva fatto emergere un tipo di problemati grazie alla dottoressa Antonella Elena Rossi psicologa e criminologa mi consente di farle gli auguri in chiusura? ah ma sì assolutamente auguroni auguroni lo possiamo dire che è diventata nonna? ah sì assolutamente ecco no pensavo lei faceva riferimento a Natale io le volevo fare invece gli auguri da parte di tutta la redazione per questa bella cosa che ha avuto questo è il problema di fare i figli molto giovani anche se lei è giovanissima bellissima però è nonna eh sì infatti ho detto a mio figlio che lo disereto se mi chiama fa chiamare nonna per noi sarà sempre la dottoressa Antonella Elena Rossi psicologa e criminola quindi non la chiameremo nonna però ancora auguri e grazie per questa sera grazie 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 anche per gli auguri veramente grazie grazie buonanotte ci rivediamo domenica prossima non so chi ci sarà per la chiave di volta ma comunque la chiave di volta è uno degli appuntamenti fissi di crimini e criminologia non sempre poi è chiaro dipende anche dai temi che andiamo a sviscerare gli argomenti che soprattutto riguardano la parte iniziale della trasmissione quanto poi tempo veramente vanno a richiedere per un approfondimento fatto bene tra poco invece torna un appuntamento molto gettonato che è quello della galleria degli orrori che peraltro poi trovate caricato su youtube come tema come spazio in modo differente rispetto agli altri capitoli di crimini e criminologia sul canale youtube di Cusano Italia TV trovate tutta la serie della galleria degli orrori lo speciale serial killer che abbiamo realizzato è stravolta stavolta stasera vi parleremo di un altro serial killer però questo è un serial killer che rimane ancora oggi sconosciuto il macellaio di Mons in Belgio non è stato mai trovato ha ucciso e fatto a pezzi tante donne ma non è stato mai ufficialmente identificato tanti sospettati però un po' come il precursore del ventesimo secolo a livello di crimine cioè Jack lo squartatore e allora restate con noi tra poco il macellaio di Mons a livello di Mons